Andrea Valentini alla pivot della Juve Caserta. Andrea dopo la bella vittoria di domenica scorsa, seconda gara consecutiva in casa, arriva l'orasi Ravenna che è la prima in classifica. Sappiamo che sarà una partita difficile sicuramente perché Ravenna è il primo, ha perso solo tre partite, sta andando 8 su 8, quindi dovremo fare una partita molto intensa, dovremo riuscire a limitare i secondi tiri perché loro al rimbalzo sono molto attivi e per fare le nostre cose quello che sappiamo fare meglio. I punti di forza di Ravenna c'è Thomas che è un fuoriclasse ma ci sono anche il resto della squadra che sta dimostrando davvero di essere un po' la schiaccia sassi. Diciamo che il punto di forza di Ravenna è sicuramente la difesa perché riesce ad essere intensa difensivamente per 40 minuti e quindi noi dobbiamo essere, diciamo, bareggiare l'intensità difensiva e concentrati per 40 minuti perché il minimo errore lo fanno pagare, diciamo.